sono proprio arrivati al giorno delle caselle quindi ovviamente apriamole tutte casella numero 1 di pure lei e dentro troviamo e dentro c'era una coppia di orecchini iniziamo non male direi continuiamo con clinic dove è la casella numero 1 anche abbastanza grande c'è rispetto agli altri quindi mi aspetto grandi cose spero vediamo un po' dovrebbe essere un detergente per il viso io le uso un botto quindi per me utile oppure carino in questo dovremmo trovare i trucchi non trovo l'uno eccolo l'uno e ma come si apre non capisco un po' così ok balsamo gloss di per sé non è male purtroppo sto colore io non me lo posso proprio mettere troppo autunno ora cibo allora casella numero 1 gigante questi sono tipo dei cosetti fatti con marshmallow e cioccolato a mio fratello piacciono sempre snack americani anche qui la casella è più grande delle altre vediamo due addirittura questa è tipo una gomma da masticare al cocomero e queste sono patatine e le cheddar fries sempre a mio fratello casellina invece numero 1 delle foto e ci sono io al mare come mi faccio a prenderla? come si prende? no raga ho scoperto che non si prende ma che è tutto unito quindi scopriremo tutto il finale alla fine calendario essence e qui la casellina 1 è piccolina vediamo un po' però che cosa c'è e apriti non sono certa ma dovrebbe essere un burro cacao barra rossetto la parte più carina è questo super cuoricino bellino è proprio bellino si qui troviamo le candele raga questo era quello più atteso ho rotto tutto quanto non mi interessa che cos'è? esci fuori c'è un contenitore per le candele non capisco che odore ha ma comunque sta di pulito vabbè ci piace altro cibo e qui abbiamo una casellona direi pure pesante si pesa vediamo un po' dovrebbe essere secondo me una crema si è una crema una crema duo con la la bianca e nera la nocciola per papà in questo bellino di Douglas non trovo il numero 1 cioè sto qui da mezzo eccolo 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 un rossettino matto di un rosso super rosso natale quindi in tema anche il nuovo calendario no vabbè lip gloss di MAC non me l'aspettavo onestamente allora di per sé il colore purtroppo non lo metto però è un gloss pure con i brillantini bellissimo Douglas casellina super piccola ma vediamo un po' che ci oh piccola ma non ci derude c'è una mini size del bam bam cream che non l'ho mai provato ma dicono avere un profumo buonissimo e che è super valida come crema la metteremo tra i migliori può essere l'ultimo calendario ho lasciato questo di MAC che bisogna cercare la casella allora eccola qua la numero 1 apriamo così l'ultima casellina di oggi questo ci piace il quinto rossetto di fra tutti i calendari però è un colore che mi piace sì questo lo metto sarà a provo rockin' around the christmas tree at the christmas party hop